240 euro, 4 gomme da 18, 245 barra 40 di spalla credo, sono eccezionali. Ecco questa è l'etichetta dei pneumatici. Allora ragazzi, la BMW Serie 5 ha bisogno delle gomme nuove perché le sue sono veramente a zero e in più hanno diversi tagli sul bordo laterale, uno dei quali c'è quasi un buco che è veramente interno. Infatti dovevo farlo un po' di tempo fa, poi mille cose da fare non ho fatto in tempo. Adesso le ho ordinate, quelle nuove in internet, sui vari siti, io vado sempre lì per prendere le gomme perché si trovano a dei prezzi sconvolgenti. Io ho abbandonato le marche premium a favore di marche cinesi che tutti spacciano per economiche di cattiva qualità, di pessima aderenza, di pessimo rumore di rotolamento. Io le ho montate già da anni sulle mie mare macchine e sinceramente non dovendo andare a Monza in pista per un uso quotidiano, medio, normale, io mi sono trovato bene, mi sto trovando bene. Adesso le ho montate già anche sulla Jaguar da un anno e sono decisamente economiche. Parliamo, tanto per darvi un'idea, che ogni gomma cinese costa circa due volte e mezzo in meno di una marca premium, quindi le gomme Pirelli su dei cerchi da 18 si trovano sui 150-170 euro l'una. Io le ho trovate, queste che adesso vi faccio vedere, a 60. 240 euro, 4 gomme da 18, 2,45, barra 40 di spalla, credo, sono eccezionali. Anche perché comunque ormai le gomme devono sottostare a degli standard di categoria imposti per cui sulle gomme hanno tutti l'etichetta come i frigoriferi per intenderci, su cui ci sono tre categorie fondamentali. Ve la faccio vedere questa etichetta, così la commentiamo insieme. Ecco, questa è l'etichetta dei pneumatici. Allora, ovviamente in altro c'è la marca, il modello, il codice velocità, il codice di carico e poi ci sono due categorie fondamentali. Sulla sinistra il consumo e sulla destra la tenuta su bagnato. Ok? Allora, calcolate che qui non bisogna ragionare come i frigoriferi che sono tutti di classe A+++. Qui, mediamente, trovare delle gomme di classe E è una cosa normale. Se è migliore della classe E, è già una cosa buona. Allora, sulla sinistra abbiamo una classe E di consumo, che è una cosa media. Sulla tenuta sul bagnato abbiamo una classe C, che è direi già buona, perché le A e le B sono rarissime. Io non credo di aver mai visto la A e sono pochissime le B. Ok? Sotto abbiamo la produzione in decibel al rotolamento e 72 decibel, per darvi un riferimento, è una cosa assolutamente nella norma. Quindi, viste così, presentano delle caratteristiche di fascia media, pur essendo delle gomme di fascia economy. Eccole qua. Questo è il loro battistrada, molto classico, molto tradizionale, senza vari disegni scenografici. Sembra un pneumatico della Michelin, per intenderci. Sono all season, quindi non c'è più bisogno di cambiarle con l'estate e l'inverno. Hanno il logo M più S e il logo della neve, che le contraddistingue, che possono essere usate anche in stagione invernale, quindi dopo il 15 di novembre. E infatti le andiamo a montare al volo. Ecco, vedete, qua c'è il buco sulla gomma, dovuto allo scalino, all'angolo del marciapiede che l'ha tagliato, è profondo circa un centimetro, è proprio profondo, profondo nella spalla. Poi abbiamo anche l'anteriore destra, che ha un paio di tagli, che si sta alzando qua il salvabordo, eccolo qua, è anche qua tagliato. Quindi vanno proprio sostituite, poi sono lisce, lisce. Cambiamo, cambiamo tutto. Quindi calcoliamo 240 euro di gomme, facciamo 40 euro di montaggio, più o meno 10-12 euro a gomma, e noi stiamo sotto i 300 euro con delle gomme di dimensioni per cui normalmente per stare sulle premium si spenderebbero sui 7-800 euro. Questa è la spesa. Quindi direi, ottima cosa, vi suggerisco anche voi, quantomeno, non dico di accettare la mia idea, ma di provare le cose. Provate delle gomme di fascia bassa e vedete poi come vi trovate. Magari tenendole un anno, così avete un riferimento. Ok? Qualic repetitioni nel palazzo di nacerte. Ciao! arnia! Ciao!